Ragazzi, 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 non fate niente a casa, non lavate, non pulite, non fate nulla, perché ragazzi? Non capisco, non capisco, eh! Ok, Raffario, calma, ti rilassati, qual è il problema? Rilassati un po'. È la fine delle vostre vacanze, io vado in vacanza e verrà mio fratello dall'Australia, è un militare, vi insegnerà a vivere bene, capito? Basta così, basta! Oh, ragazzi, ma che stai dicendo? Ma sì, una cavolata, una cavolata. Ah, la fine è andato via, pensa che ci crederemo, sta arrivando il suo fratello dall'Australia, pensa che ci crediamo. Dai, ragazzi, che venga, cosa ci farà? Ragazzi, ha detto che è un fratello che viene dall'Australia ed è un militare, è molto pericoloso. Ragazzi, io ho un'idea folle, incontriamolo e prendiamolo in giro, che cosa ne pensate? No, no, sei pazzo, cosa sto dicendo? È una pessima idea. Cos'è dicendo, Jumon? Smith, hai un'ottima idea? Forza, ragazzi, prepariamoci a fargli uno scherzo. Andiamo, andiamo, andiamo! Ho aperto! Fuoco! Fuoco! Oh, mio Dio! Un gioco da ragazzi, da ragazzi, mi chiamo Brian. Non ci credo. Cavolo, siamo fragati. Come l'ho fatto? Piacere, sono il fratello di Raffario e adesso io vi insegnerò. Buongiorno, buon uomo, sono De Seu. E io sono Dimon. E io sono Stas, Papa. Per me siete solo carne, carne fresca, sappiatelo ragazzi, consegnatemi le vostre armi. Ora, questi sono giocattoli per bambini. Hai capito, bambino? Sì, sì, ho capito, sì. Vengo da lontano, ho fame e sete, preparatemi un panino e qualcosa da bere. Esatto, vostro onore, faremo tutto quello che vuole. Va bene, va bene. Veloce! Ragazzi, questo tizio non mi piace per niente. Vi dico, facciamogli uno scherzo come si deve. Sei pazzo? Quale scherzo? Guarda, è un militare, ci punirà. Ho un'idea fantastica ragazzi. Guardate, guardate cosa stiamo per fare. Ragazzi, ci ha chiesto di fare un toast, giusto? Sì! Guardate cosa sto per fare. Faremo un toast, io ci verserò del tabasco ragazzi, guardate. Ne verserò molto, lo voglio in fiamme ragazzi. Non risparmiamo il tabacco. Bene, ora chiudiamo il toast a pane e vediamo la sua reazione. Che pensate del mio scherzo ragazzi? Una figata? Sì, che bello. Ragazzi, anche io un'idea fantastica. Che bella idea Odisseo, sei a posto? Sì Odisseo, dici quale è l'idea più bella. Ok, guarda, Brian vuole del tè. Sì. Sì, quindi? Brian, quanto zucchero vuole? Poco o tanto? Sì, sì, e versa più zucchero. Ragazzi, se lui vuole lo zucchero, io gli metterò il sale. Quale sale Odisseo? Sei normale? Odisseo, ho un'idea fighissima, bravo. Sì, ora metto un po' di sale nel tè, così. Perché un po', perché un po'. Sei normale Odisseo, mettiamo tutto il sale, tutto sì. Oh mio Dio, Stas, non sei normale. E ora mescoliamo, bene. Mescola, mescola. Spero che gli piaccia molto. Pessima idea, ragazzi, pessima idea. Bene, proviamo un piccolo assaggio. Sì. È orribile, andiamo a portare il tè a Brian e vediamo come reagisce. A forza, andiamo. Dai, su, andiamo. Ecco il suo tè, per favore. Per favore, ecco il tuo panino. Buon appetito, signor Brian. Grazie mille, molte, molte, molte. Alla vostra salute. Molto gustoso, ragazzi. Cosa, cosa? E ora mangio. Bello scherzo, fratello. Ragazzi, è davvero buono, ragazzi. Cosa? Cosa avete detto? Non ho capito. Non so. Ho vissuto nella giungla per tanti anni. E ho mangiato scorpioni, ragni e tutto il resto. E ora sei in punizione. 50 flessioni. Ora. Oh no, amico. Ve l'avevo detto, ragazzi. È una pessima idea. Niente di terribile. Solo c'è le armi. Sbrigati. Amici, ho un bel compito per voi. Voi cliccate sulla campanella e iscrivetevi, amici. Così non vi perdete nessun video interessante. Ok? A noi. 50. Anch'io 50. Anch'io 50. Ragazzi, io adesso vado a letto. Domani, già dal mattino, iniziamo ad allenarci. Ma che ora del mattino? Alle 10, 11. All'una del pomeriggio, forse. Ho detto alle 5 e mezza. Chi si sveglia così presto la mattina, amico? Non mi sono mai alzato così presto. Ragazzi, ho un'idea. Forse dovremmo chiamare Raffario e chiedergli di tornare. Sì, Dimon, sei molto intelligente. Chiamiamolo, così vediamo cosa dice. Forse tornerà. Dai, chiamiamolo. Vediamo cosa ha da dire. Risponderà almeno. Dai, 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 Raffario, per favore, rispondi. Sì. Raffario, si senti? Dimon, tuo figlio, ti amo molto. Sì, torna a casa, per favore. Non posso, sono in vacanza. Sì, in vacanza. Dove sei in vacanza? Lontano, alle Hawaii. Cavolo, amico, siamo fregati, ragazzi. Spengo. Allora, ragazzi, nessun problema. Domattina ci svegliamo e iniziamo nel lamento. Siamoge le armi. Sì, lo dici perché sei il più forte di noi. E io sono piccolo. Non ho molta forza e non credo di poterlo supportarlo a tutto. Sì, e preferisco giocare a scacchi che a allenarmi. Stai esagerando, te lo dico io. Andiamo a letto per recuperare le energie, ok? Andiamo, andiamo, forza, andiamo. The next step. Svegliatevi tutti! Oh, che è successo? Alzatevi, alzatevi, fate colazione, fate esercizi. Ecco i vostri vestiti. Forza, prendeteli. Oh, ragazzi, che allenamento prima dell'alba. Tutto in ordine, Gimon. Siamoge le armi e dobbiamo allenarci con tutte le nostre forze. Sì, normale. Non sono grande per andare nell'esercito. Tutto bene, Odisseo. Sege le armi, puoi farcela, ok? Vestiamoci e andiamo a fare colazione, ok? Sì, ok. Amici, vi piace la nostra uniforme? A me piace molto. Amici, l'uniforme è terribile. Siete normali? Non mi piace affatto. E voglio giocare a scacchi. No, è comoda e bella. Amici, siete d'accordo? Se vi piace la nostra uniforme, mettete un like. Io in genere non mi preoccupo, anche se andrò nell'esercito, ho ancora molti anni d'avanzi, sì. Sì, amici, volete entrare nell'esercito da grandi? Se sì, scrivetelo nei commenti. Così sappiamo chi vuole andare e chi no. Allora, andiamo a mangiare, dai. Mi chiedo, cosa mangeremo? Mangeremo qualcosa di buono, croissant, tosto o cos'altro? Forse mangeremo dei cereali o qualcosa del genere. Allora, ragazzi, qualsiasi cosa ci sia lì dentro, mangiamo tutto. L'esercito, dobbiamo mangiare qualsiasi cosa ci diano, capito? Dobbiamo sopravvivere. Buon appetito, ragazzi. Ragazzi, cos'è questo? Mi aspettavo di tutto, ma che portasse questo orribile disgustoso. Voi siete pazzi? È cibo molto buono, è cibo molto sano. Farà bene per la nostra salute. Io preferisco le caramelle, le cioccolatini e i patazzini, non questo. Ragazzi, avete cinque minuti. Chi non lo mangia sarà pulito da me. Mi avete capito o no? Allora, siete pronti? Stasera farò di voi degli uomini. Vi insegnerò tutto. Correte subito per cinque chilometri. Andiamo. Sì, esatto. E io vi terrò d'occhio. Sì, esatto. Cosa aspettate? Iniziate! Andiamo, andiamo, andiamo. Via, 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 via. Forza. Uno, due. Uno, due, tre. Andiamo, andiamo, andiamo. Uno, uno, due, tre. Sbrigatevi, ve lo dico io. Più veloce, forza. Uno, due. Uno, due, tre. Due, tre. Basta, basta. Uno, due, tre. Uno, uno, due, tre. Basta, basta. Basta. Adesso noi faremo le flessioni. Sì, esatto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Basta. È stato facile, nessun problema. Un gioco da ragazzi, da ragazzi. Allora, se è così facile per te, ne puoi fare altre cinquanta. No. Vai, 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 vai. Uno, due, tre, quattro. Two thousand years later. Quarantotto, quarantanove, cinquanta. Non ce la faccio più. Mi sei rivoltato contro. Volevo essere figo e sono stato punito. E voi ancora? No, non voglio niente, no. Ora si torna a correre. Andiamo. Uno, due, tre. Uno. Andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, state qui. Adesso andiamo a fare le trazioni. Esatto. Il primo è Odisseo. Vai. Esatto. Vai, Odisseo. Forza. E uno. Vai, forza. E due. Forza. Cosa c'è? Ma io sono piccola. Non ce la faccio. Devi imparare. Devi imparare ad esercitarti ogni giorno. Sì, ho capito così. Prossimo, Dimon. Esatto. Forza, Dimon. Forza, forza, forza. Uno, due. Che cos'è questo? Non riesci nemmeno a farlo tre volte? No, no. Lo faccio per la prima volta in vita mia. Va bene, va bene. Te lo insegno io. Stas, come si dice. Papà, vediamo cosa sai fare. Uno, due, tre, quattro, cinque. Stas, papà, Stas, papà. Amico, perché sputi così? Perché io sono Stas, papà, capito? E io sono Brian. Pronti? Ora faremo cose molto serie. Andremo in montagna. E voi avrete un esame. Mi capite? Mi avete capito? Esatto. A sinistra. Uno. Due. Uno. Due. Tre. Gli esami iniziano ora. Tra due chilometri c'è una base con dei nemici. Dovete disarmarli. Siete pronti, sì? Siete pronti? Esatto. Preparate le tute mimetiche e andiamo. Al tre si parte. Uno, due, tre. Andiamo. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Vai. Dimon, dimon, alzati, alzati. Basta, basta ragazzi, basta. Sono molto stanco. Tanto non saperai che siamo arrivati fino a un fondo. Sì, amico, ma se scopre che non abbiamo completato la missione ci punirà duramente. Dai, dimon, sventile di essere cattivo, lascialo stare, stas, facciamo una foto. Sai cosa? Ok, scattiamo la foto, ma se succede qualcosa è colpa tua, non mia. Sì, sì, forza, forza. Sì, sì. Ehi, sì. Sì, sì. Ma voi ragazzi, non scrivete nei commenti che non abbiamo finito la missione, così Brian non lo scoprirà e non ci punirà, ok? Sì. Non scrivete nei commenti. Torniamo indietro, ragazzi. Da Brian, forza. Andiamo. Mani in alto. Sei sotto tiro. Sai, ci sono io. Lo so, mi stai seguendo da tanti anni. Guardate, Brian, guardate, con che tipo sta? Oh mio Dio, sta mirando la testa. Sì, non urlare, Odisseo. Ok, ragazzi, ho un piano. Odisseo va per primo per distrarlo, mentre io e Dimon andiamo dietro, lo prendiamo e salviamo Brian, ok? E penso anche che sia meglio lasciare le armi, perché non sappiamo come usarle per non fare confusione. Bene, allora andiamo, ragazzi. Andiamo. È giunta la tua ora. Hai l'ultimo desiderio. Sì, voglio imparare il cinese. Stai scherzando? Sì, serio. Giapponese, allora. Allora è finita. È la tua fine. Va bene così. Mi sono iscritto a GL Show e sono GL Army. Non ho paura di niente. Signore, signore, quello è mio zio. Non sbarateli, per favore. Odisseo, corri, 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 per favore. È molto pericoloso qui, ragazzo mio. Per favore, per favore, per favore. Lascia andare l'arma. Brian. Brian. Ragazzi, siete pronti a tutti. Avete superato tutti gli esami. Siete la squadra GL Army più forte. Bravi, ragazzi, bravi. Oggi siamo intrappolati nella stanza di Lego. E dobbiamo trovare una via d'uscita per arrivare alla stanza successiva. Forza, Timon. Troviamo la soluzione per uscire da qua. Cerca, cerca, forza. Sì, 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 sì. Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? Che cos'è? Un robot enorme. Che figo. Devo averlo immaginato. Niente, niente. Cerca, cerca. Timon, sei sicuro che il robot era così come adesso, eh? Non credo. Sembra diverso. Ma che importa? È un giocattolo. È meglio se continua a cercare. Oh, Timon. Guarda qui. Che bella sedia di Lego. Sì, Stas, è molto bella. Insomma, cerca l'uscita per l'altra stanza, ok? Oh, Timon, mi sta annoiando. Ora mi siedo e mi riposo un pochettino, eh? Devo rilassare. Siediti, siediti, noob. Ah, non siedo. Cosa è successo? Era una trampola. Era una sedia finta, eh? Non è vera. Beh, Stas, sono a sede di Lego. Come fa a sostanare il tuo peso, ragazzi intelligente? Dai, sollevami. Cambiamo. Cosa fai, scemo? Sta bene. Beh, che razza di robot è questo qua? Robot Lego o Robot Roblox? Gne, 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 gne. Robot Umba, Umba. Vediamo cosa c'è sotto quella maschera, eh? Vediamo un po'. Eh? Oh, che cos'è quello? Oh, no. Aiuto, oh, aiutami, ah. Oh, è orribile. Cos'è stato, Timon? Non lo so, ma era molto aggressivo, molto. Sì, Timon, era molto arrabbiato. Stas, ho trovato qualcosa qui. Ho trovato qualcosa. Guarda qui, è una mazza. Wow, colpisce il muro. Vediamo. Proviamola. No, non si è rotto. Sì, come si è. Non si rompe. Sì, Stas, colpisci qui. Dai, Timon, guarda davanti a noi. Guardiamo lì. Sì, colpisci qui, dai, qui. Vai di lato, vai di lato. Al tre, uno, due e tre. Bravo, Stas, colpisci ancora. Lo so, Timon, guarda qua. Wow, wow, wow. Ah, che lato. E adesso cosa facciamo, Timon? Stas, sai cosa farò? Eh? Eh, allora, ora stacchiamo questo. Guarda. Wow, oh, guarda. Amici, questa è l'uscita che cercavamo per andare nella stanza successiva. Stas, stacca. Dai. Andiamo. Ragazzi, credo che abbiamo trovato l'uscita per la prossima stanza. Il prossimo cartone è arrivato. Forza, andiamo, amici, andiamo tutti insieme. Andiamo, andiamo. Come siamo finiti, Timon, guardate. Sì, Stas, siamo in un video di SpongeBob. Amici, dobbiamo ora sforzarci di trovare un modo di uscire da questa stanza per poter poi raggiungere la prossima. Bene, andiamo a cercarlo, andiamo. Amici, guardate, l'ingresso di questa stanza era della casa di Squid. Wow. E qui, amici, c'è la casa di Patrick. Patrick, lo conoscete, vero? Sì? E voi, amici, guardate SpongeBob. Io lo adoro. Allora, amici, sono sicuro che troveremo la chiave molto velocemente. Forza, Stas, cerchiamo. Timon, dove la troviamo? Dai, dimmi, dimmi. Dobbiamo cercare con attenzione ma non rompere nulla. Mi dispiacerebbe. Ma sei normale. Non rompere niente? In questa sfida dobbiamo rompere tutto. No, Stas, sei pazzo. Ah, ah, non fa niente. Qui? No, non qui. No, no, no. Forse qua. Oh, ah. Così peggioriamo ancora di più la situazione. Sarà ancora più difficile da trovare. Timon, guarda qui. Forza qui dentro. È dentro. Guarda. Smettila. No, qui non c'è niente. Forza nella casa del calamaro. Sì, hai ragione. Andiamo a vedere. Andiamo, andiamo. Ma fa' attenzione. Cominciamo con l'occhio. No, amico. E qui niente. Guardiamo il naso. E anche qui niente. Non credo sia lì. Amici, dove pensate che possa essere? Vediamo l'orecchio. No, neanche qui. Ora l'altro occhio. Neanche là. Forse è qui nel sopracciglio. Andiamo. Ah, ah, ah. È neanche qua. Timon, cosa c'è là davanti a noi? Guarda. Oh, è la casa di SpongeBob. Perché non ci abbiamo pensato prima? Deve essere là, amici. Andiamo. Timon, guarda. Questa è la casa autentica di SpongeBob. Oh, è molto bella. Ma dobbiamo andare avanti, ok? Sì, e io ho un'idea folle. Guarda, amici, rompiamo tutta la casa. Forza. No, 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 no. No, 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 no. Perché dobbiamo romperla? C'è la porta. Sì, Timon, è vero. Qui c'è il portale. Apriamola. E ora apriamo questa porta lentamente. Lentamente? Sei normale, Timon. Forza, ciao. Andiamo, andiamo. Cavolo, che stupido. Andiamo. Oddio mio, Timon. Guarda dove siamo. Oh, guardate com'è bella la casa di SpongeBob. Guardate qui, è il pesce di ornamento di SpongeBob. Sì. Guarda. Ecco, Harry. E qui che c'è il primo dollare di SpongeBob. E qui c'è la sua sedia. Sì, Timon, è là c'è la sua TV. Dove guarda i suoi film. Sì, dobbiamo trovare l'ingresso della prossima stanza. Ma con attenzione. Sì, Timon, hai ragione. Amici, dove pensate che SpongeBob possa aver nascosto le chiavi? Penso che ne abbia date a Harry. Sei una lumaca molto brava, Harry. Dici, come uscire da questa stanza? Così possiamo andare nella prossima. Dai. Sei normale, Timon. Cosa fai? Parli con una lumaca, eh? Stasse, metti subito giù la lumaca. Harry è una lumaca molto bella. Non farla del male, ok? Come vuoi te, Timon? No, no, no. Ah! Stiamo cercando le chiavi, amici. Dove possono essere le chiavi? Non sono qua. Forse qui? Sono qui? Non devi rompere la povera lumaca. Ora SpongeBob sarà molto triste. Timon, pensa in modo logico. Il nostro obiettivo è uscire da qua. Quindi cerchiamo una soluzione per trovare la via d'uscita o una chiave o qualcosa del genere. Beh, guarda qui, non c'è. Ok, ok. Comunque, amico, ho i nervi al fior di pelle. Amico, che succede con queste sedie? Le sedie si rompono in ogni stanza. Non le posso più. Stupida sedia. Qua? Forse la chiave è qua? No. Qua? Neanche qua. Calmati, calmati. Cosa, cosa mi devo calmare? Stas, stai attento. Spaccherai tutto qui. Non mi interessa, Timon. Non mi interessa niente. Io qui spaccherò tutto. Ti sta bene. Ecco, non farai cavolate la prossima volta, Stas. Potete molto tesi. Io qui spaccherò tutto. Le chiavi sono sicuramente nel televisore. Ah. 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 Basta, basta. Basta. Oh, amici, ha detto bene. C'era un ascio qua dentro. Spaccherò tutto qua dentro. Amici, l'unica cosa che non si può rompere qui sono questi armadietti. Spostati, vai di lato. Ah. Eh. Tieni, Timon. Tieni. Vengo. Ora lo distruggerò. Stas, guarda qui, guarda qui, guarda. Oh, abbiamo trovato la mia uscita, amici. L'abbiamo trovata. Andiamo nella prossima stanza. Chissà dove siamo arrivati. Timon, guarda qua. Siamo in una specie di cimitero, Stas. Oh, guarda quante tombe ci sono. Cosa succede qua? Sì, Stas, guarda i nomi sulle lapidi. Qui c'è scritto Mr. Adams e qui c'è scritto Lady Adams. Cosa può essere mai, amici? Forse sapete cosa sono queste cose. So che cos'è, Stas. Siamo nella stanza di mercoledì, probabilmente. Guarda, Timon. Oh, mio Dio. Per il fatto che dobbiamo trovare, cosa? Le chiavi, amici. Come facciamo a uscire da qui? Sì, Stas, dobbiamo cercare ovunque. Hai ragione, Timon. Andiamo a vedere. Forse qua? Guarda quanti ragni ci devono essere qua. Oh, qui non ci sono chiavi. Dove possono essere? Dove possono essere? Stas, la cosa più importante è non rompere nulla qui. Perché questo posto è sicuramente maledetto. Merda, Timon. Tu esageri sempre. Buonasera, ragazzi. E tu chi sei? Stas, io so chi è. Lei è mercoledì Adams. Cosa volete nel mio mondo? Non vogliamo farti niente di male. Abbiamo solo bisogno del tuo aiuto per uscire da questo posto. E perché vi dovrei aiutare? Merda, Timon. Perché la stai armeggiando? Faremo quello che vogliamo. Ci vediamo dopo. Vai via. Cos'è già di fare? Vediamo dove possono essere le chiave. Non credo che sia una buona idea. Devono essere qui da qualche parte. Da qualche parte qui. Oh, Stas. Cosa? Cos'era quello? Ti avevo detto di non fare queste cose. Tu perché mi hai colpito? Adesso ho quali testa pazzesco. Ai ai. Perché non rispezzi il mio mondo? Ah sì, eh? E ora di nuovo cosa facciamo? Eh, dimmi. Ho un'idea, amici. Dovremmo forse fare la sua danza. Forza, Stas. Ah, Stas. Ah, Stas. lascia stare ragni e tutto il resto andiamo a vedere qui dentro nella bara andiamo dai aiutami dai aiutami vai via vai via vai via 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 basta basta per fortuna sei andato grazie per avermi salvato stas non c'è di che stas papà stas papà timon ora dobbiamo uscire dov'è l'uscita dov'è timon guarda qui qui è l'uscita usciamo forse abbiamo finito non credo ci sia un'altra stanza andiamo dai 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 vai vai dove siamo di nuovo di nuovo tutto all'inizio dove siamo ora di voi spiegami credo che siamo nel mondo di spider man adesso e come l'hai capito eh perché qui alla televisione adesso c'è spider man oh mi piace spider man stas dai su dobbiamo trovare un modo per uscire da qui dai bene amici guardiamo niente neanche qua allora diamo l'occhiata quello è un vero spider man sicuro oh ti adoriamo eh ragazzi cosa volete qui eh noi vogliamo uscire e andare a casa ma non sappiamo dov'è l'uscita penso che siete abbastanza bravi state facendo tutto per me eh io aiuto i buoni state attenti e non spaccate nulla nella mia città però ok oh oh nessun problema spider man ti vogliamo bene sei il più figo del mondo eh eh bene ragazzi me ne vado buona fortuna grazie mille spider man ci vediamo dopo si si a presto ti vogliamo bene uh 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 molto bene spider man è il migliore ah 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 che ci fai del mio mondo eh è te and te ah ah stiamo solo cercando una via di uscita da qui una via di uscita ah 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 dai Stas, non abbiamo altra che è d'uscita, dobbiamo disarmarlo, subito! Vai vieni qua, vai vieni qua, forza, andiamo, vai vieni qua, via, vattene! Bravo Stas, ce l'hai fatta! Un pazzoide! Allora dimora, adesso spacchiamo tutto qua! Eccola! Che è successo Stas? Che cosa hai trovato? Oh amici, guardate cosa ho trovato, ora spaccheremo tutto, di sicuro! Stas, ecco la via d'uscita Stas! Oh amici, ora speriamo di uscire di qua, di sicuro, filiamo via! Beh vediamo cosa c'è nell'altra stanza! Andiamo! Oh cavolo, che razza di mondo è questo, Dimon! Io credo Dimon che noi siamo su un altro pianeta! Sì Stas, siamo nel mondo di Avatar! Sì Dimon, dai guarda laggiù! No, non vi faremo del male, vogliamo solo andarci da qua, per favore, no, no, no! Dimon, credo che lei riesca a comprenderci! Fatti un po' da parte, fatti da parte! Siamo dei buoni e vogliamo uscire da qui! Come possiamo lasciare il vostro pianeta? Dimon, credo che lei non voglia affatto aiutarci! E io allora romperò tutto qua, forse! Non credo che sia una buona idea Stas! Spaccherò tutto qui, tutto, tutto! No, 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 no! Romperò tutto qui, dove sono le chiavi, dove? Continuerò spaccare, romperò tutto! No, no, no! Non mi interessa niente, neanche qua! Torcerà giù, diamo l'occhiata! Bene, bene! Ecco, perdiamo! Guardate amici, cosa ho trovato! È la coda dell'avatar! Fantastico, ma da dove è uscita questa? Oh, grazie, grazie mille, grazie! Dimon, è qui da qualche parte! Forza, colpisci, colpisci! Rompilo! Spaccalo, Stas, bravo! Adesso usciamo! Finalmente amici, siamo riusciti a trovare la via d'uscita! Ragazzi, Odisseo è malato ed è in ospedale! Vogliamo andare da lui e portargli dei dolci! Ma c'è una guardia e non ce lo permette! Quindi stiamo cercando dei modi per portare delle caramelle in ospedale! In modo che la guardia non se ne accorga! Quindi iniziamo con il primo metodo! Per prima cosa abbiamo bisogno delle giacche! Indossiamole! Ora cosa facciamo, Stas? Mettiamo le patatine e le caramelle gommose proprio qua! Apriamo un po' e incolliamo! Ottimo! Ora chiudiamo la cerniera! Ottimo, Stas! E noi ci metteremo la Coca-Cola sulle spalle! Guardate, proprio qui! E qui! Va bene! E qui, così! Come se avessi delle spalle muscolose! Certo che io ho delle spalle così! E io ho una pancia così! Stas, ti metto anche il pop-corno sulla pancia! Su, dai! Così! Ecco! Ok! Ora chiudiamo la cerniera! Ora siamo pronti a partire! Andiamo! Andiamo! Fermatevi! Dove state andando? Dove? Andiamo a visitare il nostro fratellino! Sì, è così, sì! Lo sapete che i dolci sono vietati! Sì, certo che lo sappiamo, sì! No, non ne abbiamo! Ok, entrate pure! Sei nel naso, Dimoni! Sì, vieni dentro! Oh, Stas! Dimoni! Ma siete voi? Sì, Odisseo! Guarda che cosa ti abbiamo portato! Tanti dolci, Odisseo! Ragazzi, ma voi sei proibito! Come siete riusciti? Facile, facile, Odisseo! Siamo l'esercito GL! Mangia! E fa un tossico! Bravo, Stas! Sta funzionando! Bravo, Dimoni! E ora come facciamo a portare i dolci? Credo di avere una idea! Guarda! Allora, un elettricista è venuto a cambiare le lampadine! Guarda! Che vuol dire un elettricista? Andrei a cercare i dolci là sopra! Guarda! Ho qui degli strumenti! E sul fondo ci saranno i dolci! Bravo, Dimoni! Sei intelligente! Lo so! Possiamo anche mettere dei dolci nel casco! Che aspettiamo? Mettiamo tutto dentro! Forza, forza! Facciamo il pieno! E questo? Penso che sia sufficiente! Chiudiamo! Ora chiudiamo in questo modo! Grande! Ora metti qualcosa nel casco! E ora vediamo se quelle gelatine ci entrano! Laggiù, all'interno! Ok! Sono pronto! Dimon! Buona fortuna a noi! Vediamo come supereremo il controllo di sicurezza! Sì! Andiamo! Buona sera! Stop! Dove state andando? Sono un elettricista! E ho un lavoro da fare qui in questo reparto! Nessuno mi ha detto che doveva venire un elettricista! Beh, non lo so! Questo è il vostro problema! Ho un lavoro da fare e devo portarlo a terra! Purtroppo non posso farla passare! Ok! Ma se succede qualcosa a una persona malata perché non c'è luce la colpa è sua! No! Non voglio essere incolpato! Ma devo vedere cosa avete dentro! Sì! Nessun problema! Guardate! Guardate! Ah! Vedo che ci sono degli strumenti! Ok! Entra pure! Perfetto! Grazie! Oh! Ho un lavoro molto difficile! Odisseo! Ciao! Chi è signore? Sono io Dimon! Ti ho portato dei dolci! Wow! Dimon! Sei molto intelligente! Ho portato le tue caramelle e gelatinosse preferite! Sono qui nel casco! Sono i miei preferiti! Grazie! Damone in fretta! Ah! Oh! Oh! Guardate! Oh! Sono il più figo! Ha funzionato! Stas! Perché sei vestito così? Perché caro Dimon io sono un bidello! Ok! Ho capito! Come avete capito al posto dello spazzolone o delle caramelle di gelatina! Ok Stas! Buona fortuna! Facile! Facile! Sembra che metà di coloro che ci guardano non siano iscritti! Perché? Non è il corretto! Iscrivetevi! Così ci aiuterete e sarete i primi a vedere i nostri fantastici video! Salve! Devo passare per fare delle pulizie! Devi pulire! Con cosa? Ho uno spazzolone! Ho l'ordine di pulire l'interno! Che tipo di spazzolone è? È la prima volta che ne vedo uno così piccolo! Perché ha un odore così dolce! Ok ho aggiunto un odore così! L'odore della stanza sarà più piacevole! Sei sicuro? Per qualche motivo mi viene voglia di dargli un morso! No! 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 È dolce! Qui è vietato lo sai! Esci subito di qui! Vai via! Vai via! Vai via ho detto! Oh amico! Il mio metro non ha funzionato! Calmati un po' scemo! Dai! Calmati! Timor! Stai bene? Perché mi hai colpito? Fratello! Sono un pugile! Vedi! La box non c'entra niente con quello che stiamo facendo oggi! Guarda Stas! Guarda dove metto i dolci! Li metto nei guanti! Non credo che funzionerà! Ma prova! Sì andiamo! Quindi mettiamo qui! Ok! Ora indossiamoli! Ottimo! Fatto! Perfetto! Così! Sono curioso di vedere come ti faranno entrare con i guantoni da pugilato! Non preoccuparti se la guardia non mi lascia entrare e gli aspetto una bella sorpresa! Ok Timor! Buona fortuna a te! Che altro dire? Pa 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 pa! Non colpirmi! Sono un medico! Sono un medico! E io sono un pugile professionista! Pa 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 pa! E che cosa vuoi? Io voglio entrare! Certo! Entrate! Entrate! Ma niente dolci per favore! Niente dolci? Che cosa hai detto? Niente! Niente! Con i dolci! Non colpirmi! Entra! Entra signore! Ok! Sto scherzando! Non mangio dolci! Spassati! Entra pure! Odisseo! Dai! Toglimi il guanto! Wow! Che bello! E c'è qualcosa qui dentro? Ecco una lecca lecca! Uuuuh! E lecca lecca! Grazie Timor! Prego Odisseo! Non c'è niente di che! Ah! Easy peasy lemon squeezy! Timor! Stai per vedere il mio easy peasy! Stas! Pensi che ora sia il carnevale? Timor! Quando mi vedrà così si spaventerà! Avrà paura! Stas! Stai scherzando! Non è nemmeno una vera spada! Non è importante Timor! L'importante è chi lo spaventi! Per cominciare metto qua i dolci nello scudo! Ecco! Così! Prendo anche uno sneaker se lo metto dietro lenza della spada! Ok! Vai! Buona fortuna! Mettete un mi piace! Bravo amico! Mi sono spaventato! Mi sono spaventato! Non capisco! Mi stai prendendo in giro! Signore! Halloween è già finito! Cosa ci fa qui? Sono lo spartano e adesso voglio entrare qua! Ok! Puoi entrare ma non può portare le caramelle con sé! Oh! Sei bravo! Fammi passare adesso! Aspetta un attimo! Cosa c'è qui? Ma! Non è così! Fammi vedere! Fammi vedere! Aspetta! Che cos'è questo? Via da qui! Via da qui! Adesso! Scemo! Uno! Due! Tre! Non sono passato! Verme stercolario! Sei un verbe stercolario! Lasciami in pace Timon! Perché sei vestito così? Guarda cosa ho qui! Queste sono le mie medaglie! Wow! E queste sono le mie mostrine! Timon non ne sono certo ma buona fortuna a te! Grazie! Signor sì! Partendo di ferma di sterco! Uno! Due! Tre! Sull'alt! Sull'alt! Va bene! Fammi passare! Puoi entrare! Ma solo senza dolci! Ok? Sei stupido! Io difendo il tuo paese e tu mi dici niente dolci! Mi scusi! Mille scuse! Vada per favore! E vai! in piedi attenzione ti ho portato del cioccolato che bello si grazie mille non preoccuparti ho tanti regali per te sei migliore di mondo lo so grazie delizioso buonasera sei passato certo che si perchè sono figo ben fatto Dimon sono orgoglioso di te grazie come si fa a passare? io apro la mia valigetta prendo i miei soldi e ci metto dentro delle patatine panette di cioccolato caramelle e ho messo i soldi in cima ecco così non si vedono più i dolci si è una buona idea bravo bravo vado io ho un business dai dai bravo amico bravo stop 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 signore lei chi è? è meglio per te che tu non sappia chi sono io ok ok entra pure che cosa ha qui? sei sicuro di vedere quello che c'ho qui dentro? sì sono sicuro perchè è vietato portare dei dolci nel nostro ospedale capisce? va bene l'hai chiesto tu non ho visto niente non ho visto niente entra entra bravo bravo ragazzi questo è un tipo molto pericoloso molto odisseo sono qua oh stas sei tu? beh e chi altro pensi? sono stas papa il temuto mafioso guarda cosa ho qui dentro wow cosa c'era? no i soldi lascia i soldi odisseo ecco delle caramelle di gelatina per te wow che forte prendi 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 tutto per te fratello mio grazie mille easy peasy lemon squeezy bravo stas ho un'idea migliore parla parla di moda prendo tutti questi dolci li metto in una scatola e dirò che è un ordine per un cliente di moda è molto estremo lo so dai aiutami metti tutto dentro ostimo ah ok adesso vado a consegnare l'ordine questa idea ragazzi è la più folla di tutte mi chiedo se passerà si o no vediamo oppa oh stop 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 ho un ordine per odisseo è dentro? si è all'interno e tu cosa hai dentro perché in ospedale non sono ammessi i dolci non so cosa ci sia dentro ma è un ordine devo consegnarlo dovremmo aprirlo e vedere cosa c'è dentro no 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 sei stupido non puoi farlo saremmo denunciati entrambi per questo no 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 non voglio andare in prigione vabbè entra vabbè vabbiamo